E' stata inaugurata l'edizione aquilana della Gold Bad Tennis Cup, torneo internazionale dotato di un monte premio di 50.000 dollari, in programma dal 16 al 24 giugno, caratterizzato da un grande tennis, ma anche da spettacoli ed eventi di intrattenimento. Sold out per il taglio del nastro al Pepe Verna, che per la prima volta nella storia del più antico circolo tennis d'Abruzzo, ospiterà campioni di assoluto livello, due dei quali tra i top 100 della classifica mondiale. Tra questi l'azzurro Paolo Lorenzi, Davis Mann, attuale numero 74 al mondo e numero 33 appena un anno fa. Il capofila sarà il 25enne spagnolo Roberto Carballes, attuale numero 73, che si piazza in tabellone principale come testa di serie numero 1. Seguono altri ottimi giocatori come Yugo Delian, boliviano, alla posizione numero 113, i brasiliani Roberto Dutra Silvia e Tiago Monterio, rispettivamente numero 139 e 140 della classifica mondiali ATP. A coronare il ventaglio di invidiabile prestigio sono Tommy Robredo, giocatore ex numero 5 al mondo, e gli italiani Gianluigi Quinzi, Luca Vanni e Matteo Donati, che hanno dato spettacolo al Challenger di Francavilla al mare lo scorso aprile. Da sabato 16 giugno a gioventù 21 l'ingresso al circolo è gratuito e le partite si disputeranno dalle ore 10 fino al calar del sole. I biglietti giornalieri e gli abbonamenti alle fasi finali del torneo, cioè quelle del 22, 23 e 24 giugno, possono essere acquistati presso la biglietteria dell'area Hospitality a partire da sabato 16 giugno. È inoltre possibile prenotare anticipatamente gli abbonamenti inviando una mail a desk-meftennis-events.com o telefonando al numero 392-52-50-271. Ogni giorno dalle ore 20 circa sarà possibile consultare l'orario del gioco del giorno successivo sul sito ufficiale www.internazionalil'aquila.com o sulla pagina Facebook Meftennis Events. Grazie a tutti.